Sulla Cartonito App arriva una grandissima novità! Da questo mese si gioca! Troverai infatti uno spazio tutto dedicato con tanti spassosissimi giochi! Scova le differenze con Mikey il Carlino! Scomponi una strampalata musica rumorosa assieme a Tom e Jerry! Tuffati in mare, aiuta i gattini, sposta la frutta, corri, salta! Ma quanti sono? Gioca e divertiti sulla Cartonito App! Grazie per la visione!